Ebbene sì, dopo 14 anni ho deciso di mettere a nanna la mia Neki, la mia bellissima macchina da cucire che ha fatto insorgere in me la passione per il cucito e che non mi ha mai abbandonato nonostante l'avessi comprata già all'epoca di seconda mano. Ho deciso comunque di passare ad una macchina più performante, oggigiorno le macchine digitali e elettroniche sono veramente fantastiche e offrono delle opportunità di cucito di livello nettamente superiore. Ma come orientarsi nel mondo online delle macchine da cucire? è veramente difficile perché la scelta è ampissima e non sai veramente quale comprare. La cosa migliore sarebbe avere una persona che ti aiuta nella selezione della macchina e io ho trovato questo nella bottega Barichello. Questo negozio non è solo un negozio presente fisicamente nella provincia di Treviso, ma è anche un negozio presente online. La bottega Barichello ti aiuta nella scelta della macchina perfetta per le tue esigenze e ti aiuta fisicamente se vieni qua in negozio, altrimenti via telefono o via mail. Oltretutto ti spediscono naturalmente la macchina gratuitamente a casa e nel caso in cui la macchina dovesse avere dei problemi ti mandano un corriere a prelevare la macchina, te la riparano e poi te la riconsegnano dopo pochi giorni. La bottega Barichello è presente sul mercato da 40 anni, sono specializzati nella vendita di macchine industriali, lavorano per aziende come Benetton e sono anche specializzati appunto nella vendita di macchine domestiche. Hanno una vastissima gamma di macchine per tutte le esigenze e per tutte le tasche, le potete vedere sul loro sito. Il loro sito presenta in maniera chiara e semplice tutti i loro prodotti. Come macchine da cucire, ricamatrici e tagliacuci si sono concentrate sui marchi Brother, Yuki, Neki, Enna, Singer e Baby Lock. I prezzi sono esposti e sono assolutamente in linea con i prezzi del web, offrendo però tutto il servizio di assistenza pre-vendita e post-vendita che è il loro punto di forza. Il titolare, Primo Barichello, ha fatto il suo percorso di formazione come tecnico delle macchine da cucire, perciò conosce perfettamente il prodotto e sa cosa consigliarvi. Qui trovate tutti i riferimenti aziendali e le loro condizioni di vendita. Qualora ci fosse uno sconto o un regalo per chi acquista con il codice LA DOLCE ARIA, ve lo indicherò nella info box sotto ai video. Io vi presenterò alcune macchine per le diverse esigenze, che tu ne faccia un uso più professionale e continuo, piuttosto che invece un uso personale, saltuario, per fare semplicemente degli orli, stringere una gonna o accorciare dei pantaloni. La bottega Barichello, comunque, è anche specializzata nei filati Madeira e vendono dei bellissimi tessuti di alta gamma ad un prezzo outlet. Però questi tessuti li potete vedere solamente nella loro pagina Facebook, per cui vi invito ad andare sulla loro pagina e mettere un bel like, solo così potrete rimanere aggiornati sui vari tessuti proposti. Qui sotto nella info box ti lascio tutti i recapiti e le indicazioni per il negozio, per le macchine che ti proporrò e per le loro pagina Facebook. Al termine di questi video che ti farò vedere con delle macchine da cucire, ci sarà una sorpresa per una di voi. Quindi iscriviti al mio canale per rimanere sempre aggiornata e magari la fortunata potresti essere proprio tu. Alla prossima, ciao!